Parte anche la finale per il quarto, quinto e sesto posto della categoria G5, ed è Zamboni Andrea della Ronco a tagliare per primo il traguardo, dietro di lui Tagliani Filippo della Soprazzocco e Cigala Manuel della Monteclarense. Ecco i tre ragazzi che si sfidano per aggiudicarsi la maglia di campione provinciale primi sprint, è Dell'Aglio Alberto della Monteclarense che taglia per primo il traguardo, davanti a Bonaiti, Luca della Bornato e Martelli Nicola Stella Soprazzocco. Per quanto riguarda le femminucce, campionessa provinciale primi sprint categoria G5, è Damiani Valentina della Bornato e si aggiudica la maglia davanti a Confinar di Sara della Ronco e Maltese Michela della Bornato.